Si apre uno spiraglio nella vicenda che riguarda Enza Armando, la disabile di Vasto, che da oltre un anno non può uscire di casa perché l'ascensore è rotto nel condominio popolare di Corso Europa. È valutato in meno di 1000 euro il costo per eseguire la riparazione che consentirebbe a Enza di uscire dal suo isolamento forzato. Dopo che la vicenda ha suscitato clamore e indignazione sui social network, qualcosa si è mosso. Una soluzione è possibile. L'avvocato di Enza, Massimiliano Baccalà, ha ottenuto dall'Ater e dall'amministrazione condominiale la disponibilità con partecipare alle spese circa 850 euro per la riparazione e la conseguente riattivazione dell'ascensore.